è indispensabile da sapere sì, è piacevole cominciare con la parola di assenso sì sì a volte però non c'è scelta e siamo costretti a dire no chi vi sente capisce subito che per noi no è no 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 adesso che abbiamo una base di sì e no è il momento di chiedere qualcosa dicendo per favore s'il vous plaît s'il vous plaît se accettano vorremmo certo ringraziare si può dire semplicemente grazie merci merci o si può enfatizzare con molte grazie o grazie mille merci beaucoup merci beaucoup oppure merci bien merci bien generalmente riceverete la risposta standard tipo è stato un piacere o il più modesto non c'è di che ecco che sappiamo già due parole sì, grazie sì, merci sì, merci sì, merci oppure no, grazie no, merci no, merci scusi scusi è una parola interessante si usa per essere cortesi attrarre l'attenzione di qualcuno commentare, domandare qualcosa come in scusi mi sta pestando il piede scusi scusi excusez-moi 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 oppure pardon 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 scusi serve anche a chiedere scusa oh, scusi non intendevo se facciamo male a qualcuno diciamo scusi scusa pardon pardon se siamo davvero dispiaciuti o per scusarci diciamo spiacente je regrette je regrette se tutto va bene potete rispondere va bene se n'è rien se n'è rien passiamo a qualche frase per quando ci si incontra la prima parola sarà salve o ciao bonjour bonjour oppure salut salut e per congedarsi in italiano si può dire sempre ciao ma si usa anche arrivederci au revoir au revoir a volte si intende davvero ci rivediamo altre è solo una formalità e ad ogni modo diciamo arrivederci à bientôt à bientôt chissà perché in quasi tutte le lingue c'è un saluto speciale per il primo incontro del mattino se incontriamo qualcuno la mattina gli diciamo buongiorno buongior non manca neanche un saluto speciale per il pomeriggio come buon pomeriggio se si incontra qualcuno la sera gli si dice buona sera buon soire buon soire oppure buon soire buon soire e la notte quando si va a dormire si augura buona notte buona nuì buona nuì dopo una buona nottata di sonno siamo felici di cominciare un nuovo giorno oppure riceviamo un ospite o veniamo accolti calorosamente da una persona benvenuto bienvenu bienvenu quando ci si incontra si pongono domande formali che mostrano interessamento senza richiedere una risposta dettagliata così come va? che devenes-vous? che devenes-vous? come sta oggi? comment allez-vous aujourd'hui? comment allez-vous aujourd'hui? si può anche domandare come te la passi intendendo come vanno le cose? quoi de neuf quoi de neuf l'interlocutore se non è un amico intimo si aspetterà una risposta educata non una lista di lamentele può bastare un bene grazie ça va bien merci ça va bien merci oh da me va tutto bene e da lei e da te? chez moi tout va bien et chez vous se nessuno si è lamentato troppo e tutto è andato bene si può concludere molto educatamente è stato un vero piacere c'était très agréable c'était très agréable l'ospite si può aggiungere i miei migliori auguri o semplicemente buona fortuna bonne chance bonne chance si può anche augurare più specificamente salute e felicità beaucoup de bonheur et une bonne santé beaucoup de bonheur et une bonne santé ci sono auguri di buone feste une bonne fête une bonne fête si augura sempre buon anno une bonne année une bonne année e per accomiatarsi buon viaggio buon voyage buon voyage ehi tu quanti anni hai? buon compleanno un joyeux anniversaire il giorno dell'anniversario si augura buon anniversario un joyeux anniversaire de mariage godetevi la permanenza buon soggiorno un bon sejour un bon sejour e buona giornata une bonne journée une bonne journée si può sempre augurare ogni bene bien des choses bien des choses bien des choses qui m'ont qui m'ont gustando un bon sejourn mais Grazie per la visione!